dai dai che li vogliono morti questi bastardi chi gioca a catarina ha il problema che va nel panico no ovvero muori muori e visto che muori non riesce a gestire bene la tua abilità la sunfire ti dà un sacco di resistenze di sustain il che ti permette di gestire molto molto meglio i fight che è più o meno la stessa cosa che faccio io quando gioco gianna con il locket non muoio quindi non panico sono a posto che lies tutti i game ma sto trovando dopo gli early game diventa un cacchio di mio a meno che non si vitti male male in americana che giocare 3 anche questo game c'è abbiamo senna in bottene sono un po rotto il cazzo e giocare trash ve lo dico così giusto pur parla ma adesso che sto traguardando e giochiamo trash ok preso il magic existence ma mi sono pentito visto che c'hanno 3d i tappi me li faccio i esser anche di anna tira molti attacchi locket dps sono tankosi potrebbe essere carino quello del dps locket è fuori contro di anna e jasuo abbiamo un team abbastanza equilibrato anche se chiana viene per quanto taglia suo possibili invadere credo gioco trascolente non è una cosa che mi piace fare penso se giocando se ne mi ha scammato e zero contro loro una merda non farà nulla di dps ci abbiamo provato siamo rancabili se avete danni per il 21 tipo di buona fortuna e la serie del game è molto forte chi era oddio tenere non l'ammazzo c'è una nav di merda vabbè ragazzi tutto questo è tutto tutto fa tutto brodo non perdevo 5 anni di fianza credendo poi ragazzi quando il livello si alza tra le persone più forti che dibattono e provare le persone forti che per vincere di giocare meglio di loro c'è il gang del jungle dubito sembra un game davvero tosto è un peggio di è un periodo che si sta buggando l'exflush spesso questa cosa mi preoccupa molto mi fa perdere il controllo dell'exflush questa cosa è grave c'è un buco qui c'è un buco molto carini lo so ad attacco che abitare l'ammazzarlo nice tabi se se muori siamo contenti molto bene abbiamo un possibile anche mille no botte ho una leggera paura di di chi di diana abbiamo detto vanda cosa che poteva morire come coglioni nota e non c'è il jungle e allora questo dobbiamo giocare per il drake c'è una world molto carina mettere qua baciami stupido io muoio potrei non c'ho l'exflush questa cosa ne ho più povero non è guardato questo secondo me è fortissimo non voglio riuscire che non muore dai dai non muore così imparare a buildare quella merda con l'evadanti non muore pure godo guarda godo godo c'è il drago lo vorrei fare abbiamo mollato il drago come i cretini baciami stupido buono lo zona che ho utilizzato è per lo meno discutibile amica che palle muore muore ciò per questo all play ciò per questo non muore non muore non muore non muore mi sentivo cuore preso le alazzo faccio la zeghe nooo muore Che che dove spossi mio Porco tu quello era un grab Don muore che Baciami stupido Buonasera Paolo 30 mesi di noi e neanche ricordi di aver mai letto il mio nome Ritardi sul posto e il lavoro Ferie non stabilite Zero comunicazioni Relazione amorosa che peggiora le tue prestazioni lavorative Vacanze tra due non annunciate alla community Mi vedo costretto a prendere provvedimenti E disabilitare il rinnovo a code sto canale A caso adesso Povero Alessandro che c'è Poi un po' di cose le abbiamo un po' pompate qua Quindi la Alla fine la botte Non la prende nessuno Non avevo un occhiano Non era meglio occhiano di te A menare Opinione Dovrebbe essere qua dentro Guarda questa roba è rotta Proprio è rottissima Dai dai che li vogliamo morti questi bastardi Immagini che fanno male al cuore Questo potrebbe essere grave per loro Non so se si alberà Mi raccomando di no Devo grabare sicuramente un mino Andiamo ragazzi Che questa la si porta a casa Dai Non saranno quanto schionfitte di fila A spaventarci Ma cinque Giole play Grazie a tempi Ci voleva questo Dai Sono un buon game Non perfetto Ma sicuramente un buon migliore Ma pure quello di prima era buono Gli ultimi due li ho giochi Grazie a tutti 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 Grazie.